Valorizzare la bellezza, l'arte e la cultura dei nostri territori attraverso la formazione professionale. È l'obiettivo degli otto corsi gratuiti promossi dalla regione e finanziati con i fondi del PNRR per formare 96 giardinieri d'arte per giardini e parchi storici. Le marche hanno partecipato al Bando Nazionale che metteva a disposizione risorse per formare oltre 1200 operatori ottenendo 600 mila euro. Gli otto corsi verranno realizzati a Monte Roberto e Ancona, a Macerata e Camerino, due a San Benedetto del Tronto, a Urbagna e Pesaro. E proprio a Pesaro, nell'ambito della diciannovesima edizione del Caprila Grisciò, l'assessore al lavoro e formazione professionale Stefano Aguzzi ha presentato il programma formativo. Noi abbiamo sui nostri territori e qui a Vila Caprila ne abbiamo una testimonianza diretta tra le più belle o la più bella se vogliamo di questi territori di questa regione. Noi formiamo con questi corsi delle persone professionalizzate per poter far sì che queste ville storiche, giardini storici, parchi storici siano non solo ben curati come ovviamente lo sono anche attualmente, ma diciamo così ulteriormente valorizzati per poter accogliere nel miglior modo possibile i visitatori, turisti e altri, ma al di là di questo anche proprio dare ancora un senso più culturale, storico di quello che sono questi giardini. Quindi incentivare assolutamente l'interesse verso questi luoghi che sono un viatico non solo di bellezza, arte e cultura, ma anche di potenziali turismo e tanti visitatori, come del resto vediamo anche oggi stesso qui a Vila Caprila. Quindi sono usciti i bandi, un impegno per formare 96 operatori nella regione Marche, un impegno con fondi PNRR di 600 e passa 1.000 euro e un impegno che come regione Marche stiamo portando avanti. Presente anche a Riccardo Rossini, dirigente scolastico dell'Agrario Cecchi, l'istituto di istruzione superiore nella meravigliosa cornice di Villa Caprile ospiterà un corso. Siamo assolutamente particolarmente felici perché questa non è soltanto una villa del 600, un fantastico patrimonio artistico e culturale del territorio, ma è una scuola e ha il privilegio appunto di ospitare gli studenti. Qui la bellezza è praticamente pedagogia, ci aiuta molto più delle parole a interiorizzare il senso civico, il rispetto per se stessi, rispetto per gli altri, rispetto per l'ambiente.